Dopo due pareggi, subito l'occasione con la Triestina, una gara importante per ripartire. Sì, sì, stiamo lavorando già per questo, sappiamo che sarà una partita difficile, affronteremo una delle favorite della vigilia e sappiamo che sarà difficile, ripeto, ma anche loro troveranno veramente un avversario duro da affrontare perché la Reggiana è forte, l'ha dimostrato e lo continuerà a dimostrare. Che insidie potrebbe nascondere l'avversario di domenica? Diciamo che l'avversario di domenica può veramente lasciare tante insidie, però, ti ripeto, se noi affrontiamo le partite come stiamo facendo, con la cattiveria, l'attenzione e la fame giusta, si devono preoccupare più loro di noi. Dopo otto partite ti sei fatto un po' un'idea dei valori di questo campionato, il livello sembra molto alto? Il livello sembra alto, è un campionato, ripeto, molto equilibrato, non ci sono partite scontate, le dimostrano i risultati che sono ogni domenica e noi diciamo che ce la giocheremo per arrivare il più in alto possibile, sappiamo che ci sono corazzate come Padova, la stessa Triestina, Vicenza, che sono partiti per questo obiettivo di vincere. Noi adesso sappiamo veramente quello che possiamo dare come squadra e cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Sei stato impegnato a centrocampo in diverse anche posizioni, qual è il ruolo in cui ti senti di espremerti meglio? Io sono a disposizione del mister, dove decide di farmi giocare, ci gioco, ho giocato a due, domenica decide di farmi giocare un po' più avanti, una posizione che mi piace, dove decide lui di giocare, di farmi giocare e io ci sono. Sembra subito che ci sia stato un rapporto ottimo con i tifosi, con la città, quindi che energia ti sta dando anche questa parte di reggio che stai vivendo? No, per uno come me è veramente tanta roba, perché io sono uno molto caloroso, ho bisogno dell'affetto e cerco sempre di dare il massimo in campo, cerco sempre di sudare, onorare la maglia e uscire dal campo stremato, perché sono veramente contento di far parte di questo progetto. Grazie.